Buongiorno a tutti e bentrovati nello spazio approfondimenti dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova. 15 minuti per incontrare ospiti e approfondire la nostra conoscenza di contesti, situazioni, storie e realtà del territorio della Diocesi di Padova. Questo e molto altro. Oggi abbiamo con noi Don Giorgio Ronzoni. Buongiorno Don Giorgio e benvenuto in questo nostro spazio. Ciao Sara. Don Giorgio Ronzoni classe 1961 è prete della Diocesi di Padova dal 1986. Su primo incarico è stato come vicario parrocchiale nella parrocchia di Santa Croce a Padova, dopodiché è stato a Roma dove ha acquisito il dottorato in pastorale giovanile e catechetica all'Università Salesiana di Roma. Dopodiché è stato direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano e dal 2008 è parroco della parrocchia di Santa Sofia in Padova ed è docente di teologia pastorale alla Facoltà Teologica del Triveneto. Al suo attivo ha anche numerose pubblicazioni, la prima sicuramente quella sul progetto catechistico italiano, dopodiché ricordiamo Ardere non bruciarsi dedicato al tema del burnout, Una pietra scartata, Le sette sorelle, che non è la storia delle pleiadi ma è uno studio sulle modalità settarie di appartenenza a gruppi, comunità e movimenti e anche altri libri più agili dedicati al Padre Nostro, agli avvenimenti della settimana santa, alla lettura della Bibbia, Una via Crucis secondo Marco. L'ultimo fresco di stampa è questo, l'abuso spirituale, riconoscerlo per prevenirlo. Ed è proprio di questo che vogliamo parlare oggi con Don Giorgio. Allora Don Giorgio, un libro sull'abuso spirituale. Tu dici che in Italia di questo tema non si parla molto, si parla di più di abuso sessuale, ma di abuso spirituale se ne parla poco. Perché un libro allora su questo tema? Per approfondirlo, per farlo conoscere? Perché anche se se ne parla poco, purtroppo queste cose avvengono e quindi è importante che lo si conosca appunto per prevenirlo o per por di rimedio se è avvenuto. Ecco, ma che cosa intendiamo per abuso spirituale? Per abuso spirituale si intende qualcosa di un po' difficile da cogliere immediatamente. Nell'abuso fisico è il corpo che viene maltrattato, nell'abuso psicologico è la psiche della persona che viene maltrattata, nell'abuso sessuale sappiamo che cosa avviene, nell'abuso spirituale viene danneggiato il rapporto di una persona col suo Dio e viene vissuta male l'autorità religiosa. Ecco, ma allora in quali contesti può avvenire l'abuso spirituale? In tutti i contesti in cui una persona si affida ad un'autorità religiosa a livello personale o a livello anche comunitario, quindi con un confessore, un direttore spirituale, un superiore, che può essere un abate, un priore, un rettore del seminario, anche un vescovo, tutti questi rapporti di autorità nell'ambito religioso. Ecco, ma come avviene un abuso spirituale? L'abuso spirituale avviene più o meno così, una persona trova qualcuno che ha fama di essere una persona santa, una persona completa, una persona che può essere una vera guida spirituale, gli si affida e poi questa guida spirituale, anziché accompagnare la persona rispettosamente, comincia a farsi interprete della volontà di Dio. Questa guida ritiene di sapere qual è la volontà di Dio per questa persona, gliela comunica e la obbliga anche a fare delle cose che magari a Dio non sono mai venute in mente. Come si riconosce? Quali sono, parliamo di sintomi di un abuso spirituale su una persona? Si può riconoscere una persona che è sottoposta a un abuso di questo tipo? Ma sicuramente, come tutte le persone abusate, la persona che è sottoposta a un abuso spirituale sta male, sta male, soffre e non capisce bene perché, perché le vengono date delle spiegazioni false, le si dice che non è ancora spiritualmente matura, che non è veramente morta a se stessa, che non ha capito il vero senso dell'obbedienza e quindi questa persona si ritrova a vivere in un modo che la fa soffrire e pensa di essere anche intorto, pensa che la colpa sia sua. E ci sono dei soggetti più fragili rispetto a questo tipo di abuso? A dire la verità, chiunque può essere soggetto all'abuso spirituale. Certamente bisogna che una persona abbia consegnato la propria fiducia a qualcun altro, quindi forse gli unici che sono immuni dall'abuso spirituale sono le persone molto sospettose. Tutti gli altri possono in certi momenti della loro vita essere fragilizzati, quindi se sono persone giovani, se sono persone alla ricerca della propria vocazione, se sono persone sinceramente desiderose di fare la volontà di Dio e ricercano in una autorità o in una comunità un aiuto in questo, ecco, chiunque in realtà può essere sottoposto ad abuso spirituale. Ecco, questo è un po' il profilo diciamo della vittima. Invece l'abusatore, quali sono le motivazioni che stanno dietro a questa forma di abuso? Cioè che cosa cerca di fatto chi applica l'abuso spirituale se se ne rende conto anche? Ecco, ci sono probabilmente tre tipi di abusatori. C'è quello che è tra virgolette in buona fede, quello che vorrebbe farsi salvatore degli altri, è convinto di sapere meglio di tutti gli altri che cosa è giusto per loro e quindi, così, mosso dalle sue buone intenzioni, invade l'ambito della vita spirituale altrui cercando di plasmare le persone secondo un ideale che lui ritiene positivo. A metà strada c'è un altro tipo di abusatore che è una persona profondamente narcisista ma anche questa non è proprio completamente malvagia però ha un grande bisogno di avere dietro di sé un mucchio di seguaci ha bisogno che loro abbiano bisogno di lui o di lei e poi dopo purtroppo esistono anche delle persone profondamente perverse delle persone che godono nel far soffrire gli altri e queste sono le persone più pericolose. Nel libro distingui anche alcune livelli, diciamo si parla di negligenza spirituale, di manipolazione spirituale, di violenza spirituale possiamo così velocemente tratteggiare questi tre aspetti? Sì, il primo aspetto che hai citato, la negligenza, è una forma di abuso tra virgolette un po' più leggera o diciamo un po' meno pesante cioè far mancare alle persone quegli aiuti, ciò di cui hanno veramente bisogno entrare in una comunità dove per esempio l'insegnamento teologico, l'informazione sono ridotte al minimo perché tanto basta la parola del superiore far mancare alle persone ciò di cui avrebbero veramente bisogno. Nella manipolazione si fa un passo più in là e quindi si costringono le persone con ragionamenti, con citazioni della scrittura a fare delle cose che loro non avrebbero mai fatto ma sempre ovviamente per il loro bene e poi c'è addirittura qualche caso di esplicita violenza di maltrattamenti come non so, ad esempio costringere le persone non soltanto a tagliare i ponti completamente con la famiglia di origine e con le amicizie che avevano prima di entrare in una comunità ma addirittura costringerle a bruciare le fotografie dei propri cari strappare la corrispondenza davanti a loro costringerle a pratiche umilianti e quindi tutte queste cose purtroppo sono avvenute e vengono giustificate con motivazioni pseudo-spirituali. Ecco, ci sono anche delle metafore che usi nel tuo libro il tornado, la cipolla, il tumore, il labirinto, la trappola sono tutte immagini di modalità di attuare l'abuso, giusto? Possiamo, non so, evidenziarne magari un paio di queste che ho citato quelle più comuni? Beh, sono vari autori che usano queste metafore la metafora del tornado è una metafora interessante perché il tornado è fatto di aria e quindi a volte l'abuso spirituale si compie attraverso delle pratiche che sono perfettamente attestate nella tradizione ma hanno un'intensità esagerata ecco, perché il vento e il tornado sono comunque aria che si muove però un venticello leggero può essere anche piacevole un tornado è devastante quindi nell'abuso spirituale magari non si fanno cose diverse da quelle che si fanno sempre negli ordini religiosi nelle comunità religiose ma magari le si fa in modo esasperato, esagerato oppure un'altra immagine interessante è quella della trappola come tutte le trappole anche l'abuso spirituale è una situazione nella quale deve essere facile entrare deve avere un'esca invogliante e deve essere impossibile uscire ecco, molto spesso nell'abuso spirituale le persone sono invogliate ad entrare perché credono che troveranno un bel rapporto con Dio che troveranno una comunità accogliente ovviamente vengono invogliate o addirittura circuite perché entrino in questa nuova realtà e quando ci sono dentro poi diventa impossibile uscire perché gli si dice che chi esce dalla comunità o chi esce dal rapporto con questo padre o madre spirituale è destinato all'inferno quindi molto spesso appunto queste persone si ritrovano ingabbiate si può guarire dalle ferite di un abuso spirituale? sì, però occorre l'aiuto di persone estremamente competenti non ci si può improvvisare guaritori anzi è possibile addirittura che si passi da una dipendenza ad un'altra quindi è importante che chi presta aiuto alle persone che sono state vittime di abuso spirituale sappia quello che fa abbia una competenza e sia anche molto prudente si prenda il tempo necessario che può essere anche molto lungo Don Giorgio, le cose da dire sarebbero veramente molte ma rimandiamo appunto al tuo libro che le approfondisce in maniera precisa anche portando molti esempi hai detto che praticamente l'abuso spirituale è una situazione in cui qualcuno si intromette nel rapporto tra la persona e il suo Dio ecco, proviamo a fare anche un passo in positivo allora, come aiutarci ad avere un rapporto non interferito con il nostro Dio? ecco, una volta si parlava soprattutto di direzione spirituale oggi si parla più giustamente di accompagnamento spirituale questo vuol dire che non c'è un guru che conosce la volontà di Dio riceve da Dio la volontà giusta per una persona e poi gliela trasmette non c'è questa persona in mezzo nel rapporto tra la persona e il suo Dio a volte magari ci vengono in mente, non so, lo Starez russo ci vengono in mente i padri del deserto che avevano questi grandi carismi particolari per cui dicevano ai giovani quella che era la volontà di Dio ecco, oggi siamo più consapevoli che è la persona che riceve da Dio dallo Spirito Santo delle emozioni e chi lo accompagna deve cercare di capire questo proprio da ciò che la persona stessa gli racconta, gli dice e aiutarla a fare un po' di chiarezza quindi è un aiuto a comprendere meglio ciò che il Signore dice alla persona con il linguaggio che usa il Signore che è quello dei segni, che è quello delle emozioni interiori ecco, non c'è qualcuno che al posto mio ascolta ciò che Dio vuole per me grazie Don Giorgio, un'ultima cosa proprio la Chiesa, dicevamo all'inizio, se ne sta occupando adesso almeno la Chiesa in Italia il Magisterio di Papa Francesco sta facendo molto però in tema di abusi siamo sulla buona strada? sì, siamo sulla buona strada ma c'è moltissimo ancora da fare in realtà è stato pubblicato pochi mesi fa il primo rapporto su ciò che le diocesi italiane stanno facendo contro gli abusi, a favore delle vittime degli abusi ma ancora un quarto delle diocesi non ha risposto sembra che non abbia attuato queste misure che il Papa Francesco ha richiesto con molta forza e quindi sì, qualcosa si sta facendo ma non ci siamo ancora resta ancora parecchio da fare bene, ci auguriamo che i tempi siano più rapidi proprio questo mese diventerà definitivo il motto proprio Vos Estis Lux Mundi di Papa Francesco che era stato scritto con durata triennale adesso è stato confermato e precisato anche nelle disposizioni in Italia c'è il Servizio Nazionale Tutela Minori a livello di conferenze episcopali e servizi regionali per quanto riguarda la diocesi di Padova è attivo il SINA, il Servizio Informazione e Aiuto che è il servizio di fatto diocesano, tutela minori e persone vulnerabili le persone si possono rivolgere per qualsiasi tipo di presunto abuso o di situazioni che ritengono utile segnalare noi ringraziamo Don Giorgio Ronzoni vi ricordiamo il libro L'Abuso Spirituale riconoscerlo per prevenirlo e con voi ci vediamo la settimana prossima